Marchinho quasi all'interno dell'area di rigore, il brasiliano opera il cross, sta per arrivare Simplesio Verona, anzi scusate, assomiglia molto a Verona, è pelato, gioca da centrocampista, ha più o meno le stesse movenze, non la stessa classe, si trattava di Almirona, tiro dalla banderina già battuto, parte una traversone nuovamente ad opera, se no andiamo errati di Marchinho con la pallone che viene nuovamente messo.